La strassigna e Ginestra Fiorentina La strassigna è in direzione Firenze e rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici Per le autostrade in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa Su raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta verso Firenze Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti!